Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti in questa conferenza stampa per presentare la giornata di beneficenza che si farà lunedì in collaborazione con il gruppo acconciatore meritese, gruppo GAM. Questa giornata l'abbiamo già fatta l'anno scorso e abbiamo avuto tante soddisfazioni perché abbiamo capito che c'è tanta gente che ha bisogno per essere aiutata. Io prima di iniziare volevo ringraziare Don Giovanni per la disponibilità sempre presente su queste problematiche e volevo che iniziava lui questa conferenza stampa per benedire questa bellissima giornata. Se vuole venire da questo lato, mi fa piacere. Buongiorno a tutti. Soltanto per dirvi che in occasione di questa seconda edizione giornata di beneficenza sarà celebrata una santa messa con i barbieri a Marina di San Lorenzo lunedì alle ore 17. In quell'occasione ricorderemo anche il nostro amico Raffaele Caserta. Ringrazio tutti e un plauso va all'Associazione Amici di Raffaele proprio per queste iniziative a favore degli ultimi. Ebbene essere a favore di chi ha bisogno e farsi prossimo è la cosa più importante ed è evangelica la cosa, in quanto noi dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutti noi stessi, ma soprattutto avere questa attenzione verso il prossimo. Ricordiamocelo che le porte del paradiso saranno aperte a coloro i quali si fanno prossimi. Pensare agli altri è una cosa importante, non solo a Natale, non solo a Natale si è buoni, ma sempre, perché la bontà deve partire dal cuore e deve portarci ad amare gli altri. Grazie a voi. Grazie Don Giovanni per la disponibilità e grazie per la vicinanza che avete specialmente su questo nostro carissimo Raffaele. Dunque, io volevo ringraziare tutti quelli che stanno collaborando per questa giornata, tutti i parrucchieri naturalmente per la disponibilità che hanno avuto e che hanno chiesto di ripetere questa giornata. Noi come amici di Raffaele Caserta siamo ben felici di fare questa giornata. Abbiamo invitato tutte le associazioni nel territorio e anche qualcuno fuori del nostro territorio che ci ha chiamato, che hanno visto e sentito questa giornata, ci hanno chiamato se possono collaborare, se possono partecipare. Ci hanno chiamato anche se possono partecipare anche in questa, se possono intervenire anche le donne. Naturalmente siamo anche lì felicissimi che qualcuno ha bisogno che può venire, perché probabilmente ci saranno anche le donne parrucchiere che vengono in questa giornata. stiamo aspettando a Tony il responsabile del CAM perché vuole ringraziare, vuole dire come la giornata viene svolta, che lui ha un programma di come viene svolta la giornata. Probabilmente io vi accenno come si sviluppa e iniziamo alle nove e mezza, mi sembra, no? Nove e mezza e finiamo alle 18.30. Interrontamente cerchiamo di dare a tutti la possibilità di venire, di venire negli orari, negli orari programmati per non farli aspettare naturalmente tanto in sede. Io spero che questa giornata viene segnalata come giornata importantissima per le persone che hanno bisogno più di noi, meno fortunati. Io me lo auguro con tutto cuore. Mi auguro che come questa manifestazione, quello che noi andremo a fare, ci saranno altri sempre portati a questa problematica. Noi, questa associazione è nata come associazione amici di Raffaele Caserta per lo scopo benefico. Noi siamo ormai da un anno che sensibilizziamo questa problematica e ringrazio tutti i soci fondatori per la disponibilità, ogni volta che vengono chiamati sono sempre presenti. Il direttivo, Merino Fedele, che è costantemente ormai sul territorio per queste problematiche. Ringrazio Pippo Leveto per la sua collaborazione, Natale Panzera naturalmente, per quello che stanno facendo di portare avanti questa associazione. Adesso è arrivato il responsabile Tony Giuffre e così vi spiega la giornata perché poi lui deve rientrare per gli impegni di lavoro che non è stato gentilissimo, che è venuto e gli passo subito la parola così lo lasciamo poi andare a lavorare. Buongiorno a tutti, porto i saluti del gruppo acconciatore Melitesi a tutti voi. Allora, questa iniziativa è la seconda che facciamo dopo quella dell'anno scorso. quest'anno abbiamo deciso di farla qui in sede e praticamente consiste nel vogliamo offrire insieme all'associazione Amici di Raffaele un servizio gratuito a tutti diversamente abili con lo scopo di donare anche un sorriso a chi maggiormente oggi ha più bisogno. E niente, hai detto tutto tu Gaetano, ringrazio tutti. Sì, iniziamo alle 9 di mattina, già abbiamo le prime associazioni, dalle 9 fino alle 16, 16 e 30. Facciamo anche il servizio donna con la cooperativa Rinascita e niente, siamo anche nel periodo, indipendentemente di questa giornata, noi come GAM siamo sempre a disposizione delle varie associazioni e stiamo contribuendo, mandando ognuno di noi a turno, andando a fare dei servizi di quello che gli occorre, capelli, barbe, eccetera. E poi andiamo anche in ospedale, ringraziamo anche il direttore sanitario per la disponibilità data. Questa è tutta la giornata, sarà una giornata emotivamente, per me personalmente, abbastanza forte, anche perché il pensiero è giornalmente, anche perché oltre un collega era anche un carissimo amico. E niente, grazie a tutti. Io ringrazio Tony, veramente ringrazio tutti i parrucchieri perché per ogni volta che si parla di Raffaele sono in prima linea. Io prima di lasciare andare Tony volevo fare una foto con con la maglia che doniamo a Raffaele. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Qualche parola, qualche parola, qualche parola no, qualche parola allora il nostro carissimo segretario. Sì, buongiorno a tutti. Senti, in sintesi hanno detto tutto loro, io cosa potrei aggiungere? Io dico che dopo un anno di quel maledetto giorno, Raffaele è sempre presente in noi. Noi nel corso dell'anno abbiamo fatto tante iniziative, onorando la memoria del nostro caro amico Raffaele e ringrazio anche Don Giovanni che vedo che è sempre presente in tutte le manifestazioni, i giornalisti, ecco, quando parlo di Raffaele mi emoziono, vorrei dire tante cose ma non ce la faccio, Raffaele ti voglio bene e sei sempre nel mio cuore. Grazie Natale, grazie a tutti, grazie a tutti per veramente per questa manifestazione, manifestate sempre delle cose bellissime per quanto riguarda il mio nipote.